Un giorno, in una tranquilla campagna lucana, buon fiori. Ma come fai ad essere sempre così bello? E grazie, io uso Panacea Lucana. E cosa sarebbe questa Panacea Lucana? È un farmaco che viene unicamente e direttamente dai fiori belli e sani. Ah però, mica male essere brutti. Panacea Lucana, il farmaco migliore che viene solo dalla natura migliore.